Il gruppo Casillo nasce come trasformatore di grano duro e nasce in Puglia perché la Puglia è ancora oggi la prima regione produttrice del grano duro, quindi la nostra origine è tutta nel nostro territorio e tutta nella filiera della pasta. Da questa origine che rimane comunque molto caratterizzante si sviluppa poi un gruppo che completa le proprie attività sia nella commercializzazione a livello internazionale di materie prime agricole sia nella trasformazione anche del grano tenero.